La classifica del PG Nationals è nel caos E storia già scritta signori GG in tutti i sensi Abbattono i Cyber Ground Mi sa che si prenderanno il loro primo punto sul tavellone Quella prima vittoria contro gli Outplayed Cadono il torno del Nexus Cadrà anche il Nexus Samsung, KO, Yaxolotl Ce la fanno E la nuova generazione è arrivata a sorprenderci in grande stile Bello Seed su quattro e uno capo Ma non c'è il follow up, non ci sono i danni E verrà quindi immolato per cercare se non altro Di lasciare indietro i nemici Ma wow, Robin su Seed ma Sater Lotus lo scompone Il Flash, Sater Poi l'intervento adesso di Yike Con il muro della strisce Lo stordimento, forza del Flash Mentre Sater conclude Double kill and double crunch Ma la vecchia guardia non tarda certo a dimostrare il suo valore Ma Samira decidi di andare per l'Oline È il momento di combattere È il momento di squartare È il momento di una quadropla Per Samira Cerca Seed, cerca i danni Cerca un po' tutto Mentre invece la backline viene massacrata Lo squadra, lo guarda, lo tormette L'inserimento ma è libero soltanto per farsi massacrare da Toxie Nel frattempo Pazkiza mantiene la sua trasformazione Un doppio servimento Ma la tripla con oggetto Utilizzando il massacro Signore carneficina Questo giovedì Due diverse generazioni Torneranno a scontrarsi sulla landa E ad uscirne in testa Sarà solo una Torneranno a scontrarsi sulla landa Torneranno a scontrarsi sulla landa E ad uscirne in testa Torneranno a scontrarsi sulla landa Torneranno a scontrarsi sulla landa Torneranno a scontrarsi sulla landa